Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo credo di allenatori, io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovissimo video delle cheap solution ragazzi ovvero questa serie che piace tantissimo sia a me che anche a voi dove andremo a vedere delle soluzioni tanto economiche oppure abbastanza economiche uguali, identiche per ruolo, nazionalità eccetera a un giocatore diciamo di punta o comunque un giocatore già affermato e che costa veramente tanti soldi in questo episodio andremo a vedere tre giocatori molto interessanti, soprattutto tre punte praticamente ovvero Lewandowski, Drogba, una soluzione a Drogba, Didier Drogba e un'ala che può fare anche la punta ovvero Sadio Manei ma iniziamo subito dal primo ovvero Robert Lewandowski giocatore che state già vedendo in grafica sulla Play, come vedete facciamo come sempre una grandissima ma piccola panoramica su questi giocatori assurdi perché insomma Lewandowski lo conoscono tutti, veramente ve lo faccio vedere giusto per farvi un'idea delle possibili caratteristiche speciali delle possibili statistiche che possono avere i giocatori che diciamo possono sostituirlo a grandi grandissime linee ma iniziamo subito con il primo, col primo attaccante che può sostituire secondo noi Robert Lewandowski ovvero un giovane 17enne Alexander Buxa, come ripeto 17enne del Vista Cracovia, ATT polacco, proprio come Lewandowski Lewandowski è alto 1,85, lui è alto 1,88, Mancino non destro come Lewandowski ma ha due debilità e tre di piedi debole 60 di overall con 80 di potenziale, 20 punti crescita per questo ragazzo che vale 675.000 euro di valore e poi ha già 71 di velocità scatto, 71 di elevazione, 69 di accelerazione, resistenza 66 e soprattutto per il suo overall già un 62 di potenza tiro e un 60 di finalizzazione lo rendono già un giocatore molto interessante e poi a 17 anni con 60 di overall ha già tiro di precisione come caratteristica speciale quindi a 17 anni con un 60 di overall ha già una caratteristica speciale e già delle statistiche che comunque dei valori che servono a lui sono già oltre le aspettative o comunque già il suo overall quindi veramente un giocatore interessante e questa è chiaramente l'alternativa super economica ma andiamo a vedere quella invece un po' meno economica ma comunque anche essa economica ovvero Barzos Bialek, giocatore attaccante polacco 18enne del Forsburg quindi qua siamo già in Germania contro proprio Lewandowski, un giocatore di 1,91 quindi anche lui già alto due abilità, tre di piedi debole, 68 di overall con 81 di potenziale cresce tanto anche lui, lui vedete ha già una clausola di 6.500.000, quasi 7.000.000 di euro di clausola 73 accelerazione, 64 di taschiatto, 73 elevazione, 73 resistenza, 79 di forza e poi 71 potenziale e 69 di finalizzazione vedete che è già un giocatore molto molto simile, se vogliamo proprio prenderlo a grandi linee è comunque un 18enne, è super giovane, pensate quanto può crescere queste statistiche possono diventare veramente interessantissime, quasi livello di Lewandowski ricordiamo che comunque Lewandowski è arrivato a questi livelli proprio negli ultimi anni quindi anche a questi ragazzi polacchi ci vuole un po' di tempo ma secondo me allenando questo Bialek soprattutto perché è già un po' più pronto è già un po' più avanti rispetto a Buxa può veramente diventare un'alternativa a Lewandowski interessantissima per soltanto 6.500.000, 7.000.000 di euro poi fatelo crescere e vedrete che poi ci farete i soldi che fate con Lewandowski il secondo giocatore di punta, ovvero il super affermato famosissimo che appunto vogliamo farvi vedere come vi abbiamo anticipato prima è Drogba però Drogba chiaramente non posso farvelo vedere su FIFA quindi immaginate un po', ricordate le giocate, il modo di giocare, la fisicità di Drogba e insomma ora andremo a ricercarla nei giocatori che vi farò vedere adesso innanzitutto partiamo come sempre dalla soluzione tanto tanto economica ovvero ragazzi David Datro, Fofanà, giocatore attaccante 17enne della Costa d'Avorio del Molde FK 63 di overall con 83 di potenziale, anche lui 20 punti crescita alto 17enne con 20 punti crescita 2 massabilità, 3 piede debole, 1.81 per 82 kg veramente già un bel mastino 1.03.000 di valore con 86 accelerazioni 86 velocità scatto, 82 agilità, 84 equilibrio e in più 64 dribbling, 63 potenza tiro la finalizzazione 59 sicuramente non è proprio come Drogba però ha 17 anni quindi sicuramente può crescere e far bene però ragazzi è già un giocatore velocissimo, bello alto, grosso perché 1.81 per 82 kg ragazzi è un armadio, c'è poco da dire è molto veloce, molto resistente, bravo, forte fisicamente tecnicamente è anch'esso molto forte, controllo palla 63 di ribbing 64 la finalizzazione è l'unica cosa che un po' gli manca ma sicuramente allenandolo un attimo ci arriva anche lui e l'altra soluzione un po' meno economica ma anch'essa economica a Drogba è Ake Loba del Nashville SC ragazzi attaccante, lui 22 anni quindi ha già 4 anni in più rispetto a Ufana è un già un po' più preparato, sempre dalla Costa d'Avorio sempre attaccante, 71 di overall con 79 di potenziale non cresce tantissimo ma è veramente forte come giocatore 1.79 per 72 kg, un po' più magrettino e bassettino rispetto a Ufana 3 di abilità, 3 di bie debole, 4 milioni di valore vedete sale un pochino il valore però 83 accelerazioni, 79 di scatto, 82 agilità 74 di forza, 75 di finalizzazione, 75 di potenza tiro è anche un rigorista, 72 di rigori vedete, spendete quei 3 milioni in più però avete già un giocatore molto ma molto più simile a di Diedrogba è veramente già un po' più pronto derivatore veloce e derivatore tecnico come caratteristiche speciali quindi insomma questo Ake Loba del Nashville è veramente tanto interessante è sicuramente un'ottima soluzione però per chi vuole far crescere un po' più i giocatori Riffofanà sicuramente fa più al caso vostro è anche più veloce quindi magari è anche già un tipo di giocatore un pochettino il più diverso ma sicuramente più utilizzabile ora ragazzi arriviamo a Sadio Mane al terzo e ultimo giocatore di questo episodio dove facciamo vedere veramente i giocatori e le soluzioni a giocatori molto interessanti chiaramente Mane anche su di lui facciamo una grandissima panoramica il valore guardate di 92 milioni poi accelerazione, velocità schiato, caratteristiche speciali insomma un giocatore che sicuramente della forza fisica della finalizzazione, del dribbling e della resistenza ma soprattutto della velocità fa la sua forza e quindi direi che queste sono le caratteristiche che almeno nelle soluzioni e nelle alternative che vediamo devono esserci e il primo ragazzi è un alla destra 19enne Cali Sené del Basilea senegalese proprio come Sadio Mane 59 di overall con 75 di potenziale cresce sicuramente un bel po' un 80x72 kg, 2 massabilità, 3 di piede debole 575 mila euro di valore quindi super economico con ovviamente 85 accelerazione 84 velocità scatto quindi sicuramente già un giocatore forte e veloce poi agilità 62 forza 50 ma per un 59 di overall è sicuramente ottima poi potenza tiro 72 abbiamo detto di Sadio Mane il tiro, la velocità, la forza fisica e il dribbling e questo ragazzo ha 63 di dribbling, 72 di potenza tiro 85 accelerazione, 84 vita schiato e 50 di forza quindi questo Cali Sené del Basilea per 575 mila euro direi che ci siamo assolutamente e l'altra soluzione ragazzi è Aliu Balde giocatore del Fire Nord che può fare l'ala destra o l'ala sinistra 62 di overall con 80 di potenziale 18 punti crescita 17 anni Senegalese anche lui ovviamente 3 abilità, 3 di debole 1,70 per 60 kg lui è un po' più bassettino comunque ha un milione di valore con una clausola di 2 milioni quindi sì diciamo l'alternativa un po' più costosa ma lo vedete da voi è comunque molto molto economica guardate qua 93 accelerazioni 88 velocità scatto 87 agilità 84 equilibrio poi 57 di forza 62 di potenza tiro 65 di dribbling 62 di controllo palla e 54 di finalizzazione e in più dribbatore veloce proprio come manè come caratteristica speciale quindi ragazzi direi che questo Aliu Balde è un giocatore sicuramente da comprare e da provare sicuramente per il prezzo commentate ragazzi con quale di questi giocatori comprerete o chi di questi giocatori proverete a sostituire uno di questi top che abbiamo visto commentate iscrivetevi al canale se non mi piace attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi